Il Cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la Diocesi di Roma, domenica 6 gennaio, visiterà la cittadella della Caritas, Santa Giacinta, in via Casidina Vecchia, per salutare gli ospiti e volontari impegnati nel piano freddo diocesano. Il Cardinale inizierà la visita alle 10.30, presiedendo la celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Giacinta con gli ospiti, i volontari e gli operatori della Caritas. Al termine visiterà la cittadella e soprattutto i locali predisposti per il piano freddo diocesano, che dallo scorso 19 dicembre accolgono 76 persone senza fissa dimora ogni notte assistiti da gruppi di volontari delle parrocchie romane. Il Cardinale proseguirà la visita nella sala mensa fermandosi a pranzo con gli ospiti della Casa Santa Giacinta, struttura che accoglie 80 persone senza fissa dimore anziani. L'ultimo atto della visita nel pomeriggio sarà l'incontro del porporato con i responsabili delle aree pastorali e dei servizi, segno della Caritas diocesana.